Siamo a Maggiore del Vallo, nella chiesa di Santa Chiara, accanto a me è Suore Elvira che sta tenendo testa a circa 35 bambini ormai da 4 giorni. Domani sarà l'ultimo giorno in collaborazione con Casa della Comunità Speranza e naturalmente anche con la pastorale giovanile. Allora, Suore Elvira, come sono passati questi 4 giorni? Quali sono le attività che state facendo insieme ai ragazzi? Questi 4 giorni, sono passati il primo giorno un po' di panico, ma poi adesso ci siamo rasserenati, calmati e quindi è stata una gioia per loro dargli questa possibilità di venire al mare, di stare insieme e stando insieme nella relazione che il bambino, anche noi adulti, cresciamo. Ecco, lei ha detto fino a poco fa che l'unità fa la forza, infatti la pastorale giovanile assieme alla comunità Speranza, quindi insieme siete riusciti a fare questa bella cosa? Sì, per me se fossimo insieme potremmo fare cose meravigliose, perché da soli non possiamo più, ma insieme possiamo fare l'impossibile. L'anno prossimo si rifarà quindi? Penso di sì, perché è un'esperienza molto positiva, poi abbiamo il tempo di prepararci in anteprima ancora.